La sala ricevimenti in Ausicaa vi sorprenderà con la sua raffinatezza, accogliendo i vostri ospiti sotto un cielo di luminosi cristalli, nel giorno più importante della vostra vita, circondati da preziose atmosfere per vivere un momento unico ed irripetibile. La grande sala ricevimenti in Ausicaa è pronta ad accogliere fino a 400 invitati, garantendo il massimo comfort e tutta la qualità che contraddistingue questo spazio unico. Il giardino, poi, sarà perfetto per il cocktail di benvenuto e per concludere un tocco di eleganza con il taglio della torta, circondati dal verde e dalle piscine dell'acquaparco di 6 a 2000. Lo staff di sala ricevimenti in Ausicaa vi guiderà nelle scelte più importanti per organizzare l'evento con attenzione ai particolari ed accogliere e servire i vostri ospiti con professionalità e cordialità. La cucina di sala ricevimenti in Ausicaa offre ai suoi invitati un'esperienza culinaria di grande gusto, dandovi la possibilità di scegliere tra una vasta selezione di piatti creati con passione. Sala ricevimenti in Ausicaa è la location perfetta per dar vita al vostro sogno noziale.